Il gatto inselvatichito che nasce nel bosco sopravvive anche diversi anni, ma una volta abituato a mangiare nella ciotola, il gatto anche se è un predatore nato ha poche possibilità di sopravvivere. Questi 30 gatti sono rimasti orfani, la gattara che si prendeva cura di loro nelle campagne di Lucignano in provincia di Arezzo è infatti morta improvvisamente lo scorso dicembre. I mici adesso rischiano così la vita per salvarli una volontaria aperta una pagina Facebook attraverso la quale raccoglie fondi. Ed è esplosa in una notte, 1200 euro in 12 ore, a quel punto è partito tutto. L'obiettivo è 2500 euro per sostenere così cure, spese veterinari, vaccinazioni, medicine, ma anche per dar sostegno alle associazioni e ai gattili disposti ad ospitarli. L'obiettivo oggi è curarli, sterilizzarli perché sono in calore, tra due mesi potrebbero moltiplicarsi, non si sa a che numero, testarli per poi smistarle tra le associazioni che trovino famiglia per essere adottati. In favore della colonia felina si stanno già muovendo molte associazioni animaliste di tutta la Toscana, in campo è sceso anche Giovanotti. La moglie del canto autore cortonese ha infatti messo a disposizione del materiale del marito per organizzare così un'asta benefica. Il cui ricavato poi sarà dovuto per questi gatti e si avanza per altri gatti bisognosi. Ma l'obiettivo primario resta comunque quello di trovare una casa e una famiglia a questi mici rimassi senza la loro amata proprietaria. Si fanno tutti, quasi tutti toccare, fanno le fusa, sono dei coccoloni. Improvvisamente si sono ritrovati così e rischiano di morire. Sì, e soprattutto anche di malattie. Sì, e soprattutto anche di malattie.